Un saluto, come state ben ritrovati? Mi invito come sempre a iscrivervi qui sul logo AL, a lasciare un bel like, a commentare numerosi vigili di Champions League. Oggi alle 11 allenamento per il Milan e ci sarà grande, grandissima attesa perché c'è un allarme che va affrontato perché ieri nel corso dell'allenamento Giroud ha sentito fastidio al tenere d'Achille. Zona che era stata colpita, diciamo così, conseguenza del colpo ricevuto nella partita contro il Napoli da Kim, ricorderete all'inizio sulla fascia destra del Milan con Kim che andava ammonito. Per tanti quello non era nemmeno fallo, pensate. Un Giroud che ha abbandonato l'allenamento anzitempo nella parte finale. Vediamo oggi insomma come reagisce, se questo è un problema che gli impedirà di giocare domani oppure no. In caso non ce la facesse giocherebbe Rebic come numero 9, chiaramente insomma con caratteristiche diverse. Un allarme che ha agitato un po' la notte rossonera, insomma c'è speranza di recuperarlo, è chiaro che però insomma potrebbe non essere al top. Vedremo intorno insomma alle 11 e mezza, mezzogiorno, se Giroud avrà completato l'allenamento oppure no. Insomma, situazione un po' delicata da monitorare alla faccia di qualcuno. Tanti da Napoli che dicevano non era nemmeno fallo quello di Kim, invece era fallo sì, gli ha fatto male, ha condizionato anche la partita di Giroud che ha zoppicato per un po' e non ha reso al top, non ha giocato nemmeno l'ultima partita, in quel caso per turnover. Vediamo cosa succede all'arme dunque in casa Milan per l'impiego o meno di Giroud nella partitissima di domani contro il Napoli dopo l'1-0 dell'andata. Vediamo che cosa succede, vi aggiorniamo più tardi, per non perdere nulla iscrivetevi qui. È gratuito, attivate la campanella e se vi va commentate qui sotto, mi raccomando, un abbraccio, ci vediamo più tardi, ciao!